oh che cavolo fiosci ho fatto una missione paradami con un king e allora perché non me l'ha data vabbè regà allora me l'ha data questa partita la missione cioè mettetevi a fare io voglio vedere se mi dare una missione non me la dice ho fatto la missione dai è quello che mi ha ucciso ammazza uno che è solo io non mi copro è mille di perché cado giù nel vuoro mangiamo 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 con cose mangiamo come si costa o parti nessun o 92 francesco tripp buttiamo ma non mi ha dato livello 15 ricca è andata la missione io prendo no no io prendo la scarra io prendo la scarra io prendo la scarra io io prendo la pino l'ha detto guarino lo so che ci vanno tutti infatti c'è un miracolo c'è di sky quindi pensiamo al positifo cioè pensiamo al negativo quindi mi ha detto come è fatta la mia nita come è fatta la mia nita non so se mi ha indurato tutta si chiama nita morca miseria nita è quella di braille guardi comunque io ti ho detto che era meglio brocca no vedi tu hai fatto nita c'è che ha fatto tutto il corpo raga oh due bomba ma dai raga io non ho armi io non sono andato alla oh mi ha fatto più il vento voglio arrivare al livello io sto passando avanti a 300 nemici io voglio arrivare al livello 115 dicito cito sta lottare avu come uno scagliozzo raga venite chi mi sta guardando arriva chi mi sta guardando mi sei durato alla testa perchè non gli stai acqua apple percorso guarda che ci domanda guarda se è morto puoi appucciare sky pucia sky prima pucia sky ma io pure la mia stai buono ecco oh mi fai muovere intanto vai a pusciare sky tu adesso vai a pusciare sky è sotto scendi sotto eccola dai ma scendi giù oh prendi il muro capisci scendi giù e spara col pompa se no si è morto se non sceglie stai ricordato è morto oh oh no ho preso le scarri vieni da me però io prendo le scarre e io ho fatto mi viene a rigurarla sicurami ho preso la scherra c'è uno da noi non voglio guardare come finisce due c'hanno due raga c'hanno tre c'hanno tre stai nooo eh vabbè raga eh non lo porti tre parti eh gà tre parti potremmo risultato una partita ragazzi questi qua muovo pure i buchi ok oh 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 ma il buco dell'agenzia è il più piccolo della cioè della cioè del lago del squalo si oh oh bro sai che livello stai oh 143 io livello 115 oh oh aspetta la tv scusi raga no raga aspetta domani è pasqua eh non lo so papà e non lo puoi accendere la tv papà ah ah ok e non mi sta accendere però la play ah ecco no mi sei spento ma che è l'ho spento io col piede ma che è stupido ma cattoria no brugliere agenzia bor 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 il mio più bello è freddo nero mamma, provo a farlo no perchè non mi si lava il coso davanti lui c'è un coso da me davanti che mi sta dando fastidio mamma allora uno ha tirato uno ah eccomi si è levato ma non lo non lo è che te levo in turno non è mezzo è vai in turno in mezzo io cammino vieni vieni non ci sono non ci sono perché io mi faccio la mano non ci sono non ci sono non ci sono no ci sono no anche noi che l'abbiamo no voglio usare mira è la missione lui fa lui fa la missione lui fa la missione non ci sono uno uno ti sono uno c'è uno curatemi curate ci va a vende mie c'è una scuola scuola di parlarne sapete col pvd sono militare tutta pochi ragazzi io sono messo male anche io un po raga andiamo al cam dello slurp venite al cam dello slurp ricorda solo perché le spacchi da solo perché lui non venire sto vedendo no comunque se la spazio non lo aspetto perché sono andato venite a 50 di vita manu non lo spaventare con la pioggia vabbè ragazzi che c'è dopo lui non lo spaventare mamma mamma Dicono mi da fastidio No, bro, ma aspetti Bro Eh Venite da me No Bro, perché? Cari leggendario Eh Chiss, vedo tanto, tanto muori Tanto muoriamo Ma non ce l'ho io Chi? C'è io Giore si è morto Per chi è morto? Ho fatto un bel po' di danno a questo E c'è un'altra, Manu Guarda, voi andate senza di me Con la domica Guarda, voi andate facciate le botte, regolò Guarda, voi le salle boccate le botte, regolò Guarda, voi le salle boccate le botte, regolò Sanno qua, con l'arma mitica, eh Voi le salle boccate le botte E ora io devo far tutte la solo perché sa andare da soli No, io scappo, stai qua No ora io me vado a uccidere e questi cosi hanno tutto spasso no mi danno scarla e poi esce così si appunto così muori così muori per quelli è colpa vostra comunque è tutta come questo è un nemico che bamba oh oh un atterrato e vabbè pure quanti erano oh fra un po' faccio la missione dei sopravvivi a 500 ammessari e questi critico cosa sapevano questo? domigan scarlett e gencino ma qual è che si inizia la partita? io sono andato al il giro del sogno ma è inizia la partita ma che? si metti pronto a me non ci va inizia se te lo metti pronto ma chi? te! io? eeeh che ho messo pronto? allora è vero ahhh mi ha fatto delle lobby queste mi ha fatto delle lobby queste i i i i i i i